Bene, ragazzi, oggi vediamo gli integrali impropri. Diciamo che con questo argomento andremo a completare la parte degli integrali. E che cosa sono gli integrali impropri? Beh, per capire che cos'è un integrale improprio, è meglio partire da che cos'è un integrale proprio definito. Allora, se pensiamo a tutti gli integrali che abbiamo fatto fino adesso, cioè quelli da b di f di x in dx, avevamo fatto un'ipotesi fondamentale. Avevamo detto che f di x deve essere una funzione continua nell'intervallo chiuso e limitato a, b. Quindi, questo è l'integrale proprio, ok? L'integrale che si calcola da a, b di una funzione che è definita in tutto l'intervallo a, b. E questo intervallo a, b deve essere chiuso e limitato. Quindi, integrale improprio, sostanzialmente lo faremo negando quella che era l'ipotesi. Allora, l'ipotesi è la continuità in questo intervallo chiuso e limitato. E quindi i casi sono due. O l'intervallo non è più chiuso, o l'intervallo non è più limitato. Allora, incominciamo a negare a, la chiusura di questo intervallo. Quindi, lo vediamo qui, ok? Allora, ad esempio, io prendo una funzione che continua nell'intervallo a, b aperto, però. Vedete che a non è compreso. Oppure, nell'intervallo a, b aperto in b, quindi b non compreso. Questo caso nega la prima ipotesi della chiusura dell'intervallo. Com'è che potremmo realizzare il primo o il secondo caso? Beh, ad esempio, i due grafici sottoriportati corrispondono esattamente alle due nostre ipotesi, no? Quindi, la funzione che è continua in a, b, con a aperto, quindi in a, ad esempio, abbiamo, vedete, l'assintoto verticale. Oppure, da a a, b, dove in b, questa volta, abbiamo l'assintoto verticale. Quindi, tutte le volte che io, ad esempio, devo calcolare un'integrale da a a, b, con o a o b, dove la funzione non è definita, dove, ad esempio, un integrale, dove ho, ad esempio, l'assintoto verticale, bene, ecco, in questo caso parleremo di integrale improprio. E poi c'è l'altro caso, invece, che posso negare. Cioè, posso negare il fatto che l'intervallo non sia limitato. Quindi, anziché considerare un intervallo a, b, a, b limitato, io considero un intervallo illimitato. Cosa vuol dire? Ecco qui due casi possibili. Da a in poi, quindi da a fino a più infinito, ed è questo il caso, oppure da meno infinito a, b. Ecco, questi due casi che abbiamo visto, quindi, negare la chiusura, come in questo caso, o negare la limitatezza, rendono il nostro integrale un integrale improprio. Vediamo adesso come si svolgono questi integrali e andiamo a fare degli esempi. In realtà, vedrete che non è niente di difficile, è anche molto intuitivo. La parte più difficile sarà, come al solito, svolgere l'integrale e calcolarlo. Per il caso, insomma, trovarlo, insomma, vedrete che è abbastanza semplice. Allora, partiamo da questo esempio. Calcolare l'integrale da 0,1 della funzione 1 su x in dx. Allora, prima cosa, una cosa che non abbiamo in realtà mai valutato, e cioè il CE della funzione da integrare, della funzione integranda. In realtà, spesso e volentieri, uno fa l'integrale definito per trovare, ad esempio, un'area, un volume, e quindi, ad esempio, una funzione, uno l'ha già studiata, e quindi, in qualche modo, uno ha già fatto il CE della funzione. Se però, per caso, il CE non fosse stato già fatto nei punti precedenti, beh, adesso si comincia a capire che è fondamentale andare proprio a determinare il CE di questa funzione per capire se l'integrale che ci hanno, ad esempio, dato da calcolare è un integrale proprio, è un integrale proprio. Allora, questo qui è un integrale improprio perché? Perché la mia funzione 1 su x ha un denominatore, x, che non può essere 0. Quindi il CE della nostra funzione è che x deve essere diverso da 0. A questo punto, allora, io non posso più pensare di farmi, vabbè, l'integrale da 0, 1, perché in 0 non è definito. Allora, che cosa devo andare a fare? Semplicemente questa operazione. Al posto del mio estremo, dove la mia funzione non è definita, andrò a scrivere l'estremo corrispondente, quindi, ad esempio, A o B, a seconda se è l'estremo inferiore o l'estremo superiore dell'intervallo di cui devo andare a fare il mio integrale. Quindi, in questo caso, dirò, il limite per A che tende a 0, e poi capiamo perché è più, insomma, per A che tende a 0, dell'integrale che va da A a 1. Cioè, in questo modo, ho detto, al posto di 0 ho scritto A e faremo poi andare A a 0. Il fatto di aver messo qui è perché io sto andando da 0 a 1. Quindi sto valutando il limite destro, sostanzialmente, cioè quando sono 0 e positivo. Ecco, a questo punto che cosa dobbiamo andare a fare? Svolgere quest'integrale. Questo è un integrale immediato, che è il logaritmo del valore assoluto di x e quindi andrò a fare il limite per A che tende a 0 più del logaritmo del valore assoluto di x calcolato da A ad 1. A questo punto, ecco, volendo, voi potreste anche fare così, perché questo è molto facile, ma lo vedremo in un esercizio successivo. L'integrale ve lo prendete, ve lo fate da parte e poi, alla fine, andate a mettere il limite come ultimo passaggio. Allora, adesso vado a svolgere questo, che quindi mi diventa logaritmo di 1 meno logaritmo del valore assoluto di A. Quindi ho sostituito 1 e A. Adesso, logaritmo di 1, mi accorgo che è 0 e quindi trovo che devo fare sostanzialmente il limite per A che tende a 0 più di meno. Bene, adesso facciamo l'ultimo passaggio. Al posto di A vado a scrivere 0 più. Ah, scusate, qui ho tolto il valore assoluto. Il fatto di aver tolto il valore assoluto l'ho fatto perché A tende a 0 più e quindi posso toglierlo tranquillamente. Ok? A questo punto, al posto di A sostituisco 0 più, trovo meno logaritmo di 0 più. Pensando al grafico del logaritmo, il logaritmo di 0 più è meno infinito, quindi ho meno meno infinito che mi fa più infinito. Ecco, quindi abbiamo calcolato il nostro integrale improprio. Vediamo un altro caso, sempre relativo al caso A. Allora, io devo calcolare l'integrale da meno 1 a 0 di 1 fratto x quadro in dx. Anche qui, lo stesso ragionamento, questo è, anche questo è un integrale che sarà facile da fare. È un integrale in cui si vede ad occhio che la, la, il dominio di questa funzione non è R, ma è x diverso da 0. e quindi io vedo che un estremo è proprio 0. Allora, che cosa vado a fare? Beh, abbiamo detto come prima 0 questa volta sarebbe il mio B, e allora farò il limite per B che tende a 0 dell'integrale che va da meno 1 a B della mia funzione. Ora, in questo caso ho scritto 0 meno perché? Perché io sto andando a 0 da sinistra, perché arrivo da meno 1 arrivo fino a 0 e quindi questo qui sarà uno 0 meno. È molto importante che voi andiate a specificare questi segni perché, vedete, in questo caso, ad esempio, precedente, insomma, mi faceva tirare via valore assoluto, potevo fare un certo ragionamento, quindi bisogna essere molto precisi, insomma, cercate di essere un po' pignoli in questa fase. Bene, quindi sono passata da qui riscrivendo, quindi, limite per B che tende a 0 meno, ripeto, l'integrale da meno 1 a B della nostra funzione uno sicuro. A questo punto vado a svolgere quest'integrale, anche questo è un integrale immediato o mi ricordo che la derivata di 1 su x è meno 1 su x quadro oppure lo posso fare applicando le proprietà delle potenze perché questa cosa la posso pensare come a un x alla meno 2 e quindi poi x alla meno 2 più 1 fratto meno 2 più 1. Quindi, insomma, poi troverete meno x alla meno 1 e quindi, insomma, poi si trova il nostro calcolo meno 1 su x e lo devo calcolare da meno 1 a B. vado a sostituire quindi mi diventa sostituendo meno 1 su B meno meno quindi più allora, qui scusate, si vede male, qui c'è un meno, eh? U quindi, io ho cambiato il segno perché avevo meno meno f di A e adesso ho 1 fratto meno 1 qui c'è un meno, eh? ok, e a questo punto vado a sostituire vado a mettere 0 quindi ho 1 su 0 che fa ecco, attenzione, mi sono accorto adesso di un errore bene, vedete che ah, aspettate un attimo che ok, ci sono, ho corretto l'errore, allora, dicevo che qui avevamo ehm, dobbiamo far andare a 0 meno quindi ho meno 1 fratto 0 meno 1 fratto 0 è infinito ma essendo 0 meno sarà un meno infinito che con il meno davanti mi diventa più infinito bene, adesso vediamo l'altro caso dell'integrale improprio quello per cui uno dei due estremi è più è infinito quindi potrebbe essere o più infinito o meno infinito dall'altra parte e questo diciamo forse è più facile rispetto al caso precedente perché uno proprio subito vede che l'integrale è improprio perché già vede che un estremo è infinito quindi insomma non tutto sommato forse sono i più individuabili ok ho scelto però un integrale non proprio immediato come i precedenti per insomma per iniziare per vedere insomma un esempio allora come lo andiamo a svolgere facciamo come prima sostanzialmente cioè se un estremo non è definito quindi è più o meno infinito oppure se in quell'estremo la funzione non esiste io sostituisco al più infinito ci metto il b se fosse stato qui avrei messo a magari qui se avessi avuto meno infinito avrei messo a ok e allora dico calcoliamo il limite per b che tende a più infinito dell'integrale che va da 1 a b di x quadro meno 1 per e alla meno x in dx scusate un po' la fretta ok in dx bene adesso questa parte qui insomma vedo un attimo come vado a fare questo integrale e questo integrale lo faccio se vado a derivare questo e questo vado a integrare insomma la regola che ci viene in mente è sicuramente l'integrare per parti dove io devo trovare la la primitiva e la derivata delle due funzioni moltiplicate allora sicuramente questo è quello che vado a derivare questo lo andrò a integrare quindi la derivata mi viene 2x e l'integrale sarà meno e alla meno x attenzione perché l'esponente è meno x quindi insomma una funzione composta mi raccomando devo moltiplicare per meno 1 bene allora andiamo ad applicare la regola per parti abbiamo l'integrale da 1 a b di x quadro meno 1 per e alla meno x in dx qui per fortuna mi sono guardato di scriverlo scusate per prima la dimenticanza è uguale a meno quindi adesso vado a scrivere due forme integrate quindi questo per questo quindi meno e alla meno x per x quadro 1 più sarebbe la formula sarebbe meno il prodotto di queste due ma dato che il prodotto di queste due qui c'è un meno mi viene fuori un più e quindi andrò a scrivere 2x per e alla meno x adesso mi raccomando si continua se questo ho iniziato a derivarlo continuo a derivarlo questo continuo a integrarlo e quindi ottengo allora la prima parte la ricopio tale e quale d'accordo e adesso vado a dover adesso devo andare a scrivere questa parte qui ok allora questa parte qui diventa le due forme integrate le due primitive quindi 2x e meno e alla meno x tra di loro moltiplicate ecco che quindi mi compare questo segno meno facendo il prodotto di queste due e poi devo fare meno quindi dovrei scrivere meno il prodotto di queste due ma essendo questa negativa mi cambia il segno quindi mi resta 2 per e alla meno x bene facciamo l'ultimo quindi copio tale e quale questo lo ricopio vado a svolgere l'ultimo integrale che quindi è meno 2e alla meno x bene adesso sono pronta posso mettere gli estremi di integrazione da 1 a b lo faccio vedete in modo complessivo e e quindi adesso prima di fare il calcolo io farei questa cosa insomma andare a raccogliere la parte comune non era necessario fare questa operazione io mi trovo molto bene ne raccoglie le parti comuni così il calcolo diventa un po' più snello quindi raccolgo un meno e alla meno x poi raccolgo un x quadro meno 1 qui ho raccolto e alla meno x con il meno quindi mi resta un più 2x e qua ho raccolto il meno e alla meno x quindi mi resta un più 2 vado allora a svolgere quest'ultimo calcolo x quadro più 2x più 1 tutto che moltiplica meno e alla meno x e lo tutto lo devo calcolare da 1b ecco a questo punto mi ricordo quello che stavo facendo cioè io avevo preso questo ma l'ho calcolato da parte come ho scritto qua sotto ma adesso faccio il limite per b che tende a più infinito quindi ecco che adesso ricompare sono qui in questo punto d'accordo e qui vado a fare appunto il limite per b che tende a più infinito di tutta questa cosa a questo punto allora andiamo a svolgere questo calcolo cioè al posto di x metto prima b e poi 1 quindi mi diventa meno e alla meno b per b alla seconda più 2b più 1 ok che è quello che ho scritto qui e poi devo fare meno meno quindi più e alla meno 1 perché adesso scrivo 1 che moltiplica 1 alla seconda più 2 per 1 più 1 quindi 1 più 2 più 1 bene allora questo calcolo intanto è molto facile mi fa 4 e quindi questa parte qui sarebbe 4 per e alla meno 1 o se vogliamo 4 su e quindi questa parte qui è fissa ok determinate costante invece vediamo che cosa succede a più infinito al nostro b qui ottengo e alla meno infinito che fa 0 e qua ottengo infinito alla seconda quindi qui ottengo infinito infinito per 0 è una forma indeterminata quindi questo limite qua me lo devo fare da parte prendo lo faccio da parte limite per il più di che tende a infinito di questo questo e alla meno b mi conviene scriverlo come un e alla b quindi almeno l'ho tenuto questo anche e alla meno b l'ho fatto andare sotto e mi dato un e alla b e qui adesso trovo una cosa del tipo infinito su infinito a di là del segno ok che insomma sarebbe comunque un meno infinito mi accorgo che questo infinito è di ordine superiore a quello al numeratore e pertanto questo limite qua fa 0 voglio essere precisa 0 meno ok però non cambia nulla nel nostro limite perché io devo fare 0 perché tutto questo allora ok più 4 per e alla meno 1 e quindi il risultato della nostra operazione è 4 per e alla meno 1 bene la spiegazione degli integrali indefiniti degli integrali impropri scusate è terminata e questa lezione secondo me adesso voi che cosa dovreste fare rivelar magari rivedetevi insomma anche gli esercizi ve li provate a fare insomma cercate di capire di acquisire un po' la simbologia dopodiché adesso io vi darò da fare degli esercizi proprio specifici sugli integrali impropri e quindi insomma avrete modo di ripassare non solo gli integrali che è sempre molto 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 utile però ecco aggiungendo questa parte relativa ai limiti bene la lezione è finita di ripassare